Salve ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovissimo video e siamo io sono Marduk e oggi siamo insieme ad un amico, con chi siamo? E' bella a tutti ragazzi, sono Emanuele Gamer E oggi andremo a fare delle partite a The Lucky Sky Wars, intanto qui c'è il buon Emanuele Ragazzi, che dici, quant'è la rovescia? 3, 2, 1, scuola a me Marco, ci si? Sì, siamo insieme Tutto a merito mio, ti sto facendo un po' di sponso Ma penso che in questa partita è sciopo Allora, la situazione non è molto ottima A me è buonissima Per me? Corazza di diamante Tipo Tipo A me è tipo una spada in legno, che bello Però posso fare lo jadista A me è più forte perché c'è la cento praticamente Volete sapere perché? Ho la TNT Nooo, pezzo di merda la TNT Ma porco due, hai parlato, è uscita una TNT Ora si esplode Ah no, io non ce l'ho l'audio Vabbè ci fanno Ender Pearl Oh mio Dio No, hai trovato le Ender Pearl Sì Bravo Grazie Si è bugato Una cosa non molto nuova Non molto normale No Se vieni nella mia isola ti do una corazza di diamante Mi metto un po' di livello Mi metto un po' di livello Dove ti trovo vale tu? Io mi trovo vale nell'isola Ragazzi sono caduto Veramente No vabbè ma Primo morto Sono troppo pro No, sei troppo Sei troppo Eh no Perché si è inceppato il disco Eh, tutte scuse Io c'ho indistruttibilità C'ho indistruttibilità Indistruttibilità Ma non lo tagliamo Toppo volti Toppo volti Siamo top Ragazzi Questo Siamo Sicuramente Ci troverete in altri In molti altri video Tipo FIFA FIFA Sicuramente Perché ci piace la FIFA E noi siamo molto Sculati Per in FIFA Oculati Quindi Tipo shop E shoppone Non si fa Porco schievo Ah è vero Sto con l'altro account Lasce Sto con l'account Marduk Non sto con il Tiger In cui ho I bigchi sordi Sordi shoppati Anche quelli No Ah pianto No quelli sennò Sono cinesi Ragazzi Venite nel mio Sono giapponesi quelli Sono giapponesi Venite nel mio Sono giapponese Come si chiama Io sono entrata Ci sono anche io Puglietti Sono soppobbavo Sono soppobbavo Io mi lascio nell'acqua E l'ella Maronna mia Che reu potente Maggio core Sì Sì vado a darci Uccideli Capito Milai Secondo me Secondo me Perde Marduk Oggi Certo Non riesco a fare i salti Sono un coglione E beh ci stanno Coglione Ah io ce sa Ma è qui C'ho testi conforme Ti ha tipo sfondato C'ho testi conforme Vai ce la fai ce la fai C'ho testi conforme Mamma mia C'è tutto Però aspetta Non è morta Sì è morto Che uccolo E il nome è John Si Ehm Imi ci un bel scopare Inoltre mia Scopare Ma si sentirà Tipo Tutto Alla giù E che cazzo Me ne implica Ma Sono i due Ma sono giapponese Cosa chiedi a San Gennaro Sono giapponese Cimi ragazzi Ma quanti blocchi hai Prova Dove cazzo sta lui E mo l'hai visto Dilla sta Oh ma sto E' pecio scemo Ragazzi lo aspettavo da tanto Questo momento E' un coglione Allora Seconda partite di oggi Minico all'altro 3 2 Pianta ragazzi Allora nella pianta Il culo mi benedica Oh accanto a me Come potete vedere Io ho scioppato No Di bip Bip Bipiamo tutto Ragazzi Bip Qui sullo scarbo Allora Invisibilità Per 8 minuti Pozione di forza Forza Anche forza In Germania Mamma mia Ciccione in diamante Riccione in diamante E' diverso E ciccione in diamante Non è in grado Di Bruccare E quindi di avere programmi Adatta di film Inizione Non dammi le malo Ragazzi 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 Ma basta dire ste cose Siamo troppo trash Trash Siamo Ah possiamo essere anche in venti Ciccione in guagno Ciccione in guagno Madonna L'ho fatto Ma sono io qua Allora io mi tolgo la mano Non lo so mai Io c'ho la pozione di forza Mi mangio Ragazzi Ragazzi Ci buco Io c'ho la pozione di forza Scusa Oh Voglio ho fatto questo Scusa Ah ok Siamo in guagno Aspetta 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 Mi sei buccato Sono davvero molto felice No Fermo No E ma sei un grande Vittuto Di merda Ragazzi Per questo video è tutto Commentate Iscrivetevi Condividete E ci vediamo Alla prossima Sicuramente in un prossimo video Tutti e due insieme Ciao ragazzi